La lezione odierna si centra sulla disciplina delle obbligazioni alternative e le obbligazioni indivisibili. Ovviamente parlando delle obbligazioni alternative faremo dei riferimenti anche alle obbligazioni facoltative o con facoltà di scelta. E cominciamo l'analisi con le obbligazioni alternative. La domanda è che cos'è un'obbligazione alternativa? La definizione che solitamente si dà di obbligazione alternativa è quella obbligazione nella quale sono dedotte due prestazioni alternative tra loro. Cioè è quella obbligazione nella quale oggetto della obbligazione sono due prestazioni ma queste due prestazioni sono alternative tra di loro nel senso che il debitore si libera eseguendo l'una o l'altra. La caratteristica principale dell'obbligazione alternativa sta nel fatto che entrambe le obbligazioni alternative tra di loro sono dedotte dentro il rapporto obbligatorio e quindi entrambe costituiscono oggetto del rapporto obbligatorio soltanto che il debitore si libererà eseguendo una o altra della prestazione. Quindi il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte ma non può costringere il debitore a ricevere una parte dell'uno dell'altra. Quindi il debitore si libera eseguendo o la prestazione A o la prestazione B. Non può però costringere il creditore a ricevere una parte della prestazione A e una parte della prestazione B. Si tratta di una norma abbastanza semplice anche perché costituisce se vogliamo una mera applicazione del principio deducibile dalla regola in tema di adempimento parziale perché in questo caso avremmo come dire adempimento parziale di due diverse debitore. È evidente che in un'obbligazione alternativa dal momento che il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni che sono dedotte il tema centrale è di chi è la scelta cioè visto e considerato che all'interno dell'obbligazione sono dedotte due prestazioni in modo alternativo tra di loro rimane indispensabile stabilire a chi compete di scegliere quale delle due prestazioni debba essere eseguita perché il debitore possa liberarsi dell'obbligazione. La regola generale è che la scelta di eseguire una o altra prestazione spetta al debitore se non è stata attribuita al creditore o al terzo il che significa che in difetto di una espressa indicazione la scelta compete al debitore il che significa che una pattuizione specifica serve per attribuire la facoltà della scelta o al creditore o al terzo. Ovviamente nulla esclude che convenzionalmente si stabilisca anche che la scelta spetta al debitore in questo caso avremmo come dire una norma convenzionale esattamente corrispondente alla norma legale o meglio alla norma che opererebbe anche in assenza della disciplina legale. Quindi la regola generale è che la scelta compete ovviamente al debitore e quindi la possibilità di una previsione della scelta a favore di altri presuppone una determinazione dell'autonomia privata in questo specifico senso. Si dice anche che la scelta diventa irrevocabile o quando è eseguita ed è logico perché nel momento in cui è eseguita è evidente che l'obbligazione si estingue e estinguendosi l'obbligazione non c'è più ragione della esistenza oppure quando la scelta viene comunicata al creditore ovviamente nel caso in cui sia il debitore a scegliere, nel caso in cui venga comunicata dal creditore al debitore, nel caso in cui sia il creditore che deve scegliere e nel caso in cui venga comunicata al debitore o al creditore nell'ipotesi in cui la scelta sia affidata al terzo. Quindi la comunicazione della scelta alla parte vale a rendere irrevocabile la scelta che è stata effettuata. Quindi è evidente che per stabilire chi comunica a chi dobbiamo stabilire a priori chi deve scegliere. Se sceglie il debitore è lui che comunica al creditore, se sceglie il creditore e il creditore che comunica al debitore, se sceglie il terzo, il terzo deve comunicare al debitore e al creditore. Se la scelta spetta a più persone, il giudice può fissare un termine entro il quale queste persone devono effettuare la scelta. Se la scelta non si è effettuata nel termine che viene assegnato dal giudice, a questo punto può direttamente provvedere il giudice. Ovviamente se il debitore non esegue nel termine una delle due prestazioni e a lui competeva la scelta di eseguire o l'una o l'altra, a questo punto la scelta passa nella decisione del creditore. Se invece la scelta aspettava il creditore e il creditore non la compie, ovviamente la scelta passa al debitore. In cambio, se la scelta aspettava un terzo e il terzo non la compie, la scelta viene fatta dal giudice. Quindi, come vedete, siccome la scelta di quale delle due prestazioni dedotte alternativamente nel rapporto obbligatorio si debba eseguire perché il debitore possa essere liberato costituisce un momento nevralgico, il legislatore si preoccupa non soltanto di dare delle regole per stabilire chi deve effettuare la scelta, ma si preoccupa anche di stabilire che cosa succede se il soggetto al quale compete di fare la scelta non faccia la scelta nel termine assegnato, perché se non compie questa scelta evidentemente il debitore rimarrebbe esposto alla impossibilità di dare esecuzione e quindi prevede anche dei meccanismi di soluzione. La disciplina più significativa delle obbligazioni alternative è quella che si collega alla impossibilità. Ora, quando abbiamo analizzato la disciplina generale dell'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, abbiamo visto che nel caso di impossibilità della prestazione per causa non imputabile si verifica una estinzione del rapporto obbligatorio. Qui bisogna chiedersi che cosa succede nell'ipotesi in cui vi sia la impossibilità di una delle prestazioni che non sia imputabile ovviamente al debitore. Ovviamente, dal momento che in questo caso l'obbligazione alternativa e dunque sono dedotte nel rapporto obbligatorio, costituiscono oggetto dell'obbligazione entrambe le prestazioni, se soltanto una delle due diventa impossibile per una causa che non è imputabile né al debitore né ovviamente al creditore, in realtà non abbiamo una estinzione del rapporto obbligatorio, ma l'obbligazione diventa semplice. Io direi che questa regola è una regola chiave per capire la disciplina delle obbligazioni alternative. Siccome si tratta di un'obbligazione nella quale ha all'interno due possibili prestazioni, cioè l'oggetto di questa obbligazione non è un oggetto unico, ma sono due oggetti tra di loro alternativi. Perché in genere l'obbligazione in cui la prestazione unica diventa impossibile si estingue? Si estingue perché sarebbe un'obbligazione senza oggetto. Qui, se si estingue una delle due prestazioni, l'obbligazione non è senza oggetto. Perché? Che rimane l'altro. Dunque l'effetto della impossibilità di una delle prestazioni quando non sia imputabile al debitore determina soltanto che l'obbligazione diventa semplice. Ovviamente la disciplina si complica non poco quando la impossibilità sia imputabile al debitore e al creditore. E in ciascuna di queste ipotesi poi dovremmo anche differenziare a seconda che la scelta competeva al debitore o al creditore, perché le conseguenze possono essere diverse. Quindi, considerando questa come la regola base, è ovvio che se la impossibilità di una delle prestazioni non imputabile, se l'impossibilità riguarda tutte le prestazioni che sono dedotte nell'obbligazione alternativa, non ve dubbio che abbiamo una estinzione. Ed è importante ricordare che alla disciplina delle impossibilità di una delle due prestazioni è equiparata la ipotesi in cui una delle prestazioni non poteva costituire oggetto dell'obbligazione. Quindi questa io direi che è la regola generale in presenza di un'obbligazione alternativa. Se una delle due prestazioni diventa impossibile o una delle due prestazioni non può essere dedotta nel rapporto obbligatorio, l'obbligazione diventa semplice. Ovviamente se abbiamo una impossibilità di tutte le prestazioni che sono dedotte nel rapporto obbligatorio e questa impossibilità non è imputabile avremo una estinzione del rapporto obbligatorio. Ora vi dicevo che è più complicato adesso vedere che cosa succede quando la impossibilità di una delle prestazioni sia imputabile. Può essere imputabile alla condotta del debitore, può essere imputabile alla condotta del creditore e quindi bisogna vedere qual è la disciplina applicabile nel caso di obbligazioni alternative. Se abbiamo un'impossibilità per colpa del debitore è evidente che la disciplina è abbastanza semplice. Il debitore non può essere considerato liberato dalla obbligazione. A questo punto il creditore può scegliere l'altra prestazione oppure ottenere il risarcimento. Quindi se una delle due prestazioni diventa impossibile, l'obbligazione in realtà diventa semplice, quindi il debitore non è liberato. Però il creditore può scegliere se ottenere l'altra prestazione o il risarcimento, appunto perché potrebbe darsi che il creditore non ha interesse. Se però l'impossibilità avviene per colpa del debitore e a lui spettava la scelta, a questo punto l'obbligazione diventa semplice. Perché questo? Perché se l'impossibilità viene per colpa del debitore ma a lui spettava la scelta, in realtà la condotta del debitore che rende impossibile una delle prestazioni viene equiparata alla condotta del debitore che sceglie l'altra obbligazione. Quindi l'obbligazione diventa semplice e il debitore deve eseguire l'altra prestazione. In cambio è evidente che questa ipotesi, impossibilità per colpa del debitore, si presuppone che al debitore non competesse la scelta, quindi la scelta aspettava o al creditore o al terzo. Quindi soprattutto se aspettava al creditore è evidente che il creditore potrebbe avere interesse all'altra prestazione divenuta impossibile e quindi preferire il risarcimento. In cambio, se la impossibilità della prestazione sia per colpa del creditore, allora è evidente che il debitore è liberato dalla obbligazione. Ovviamente qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione è chiedere risarcimento. Attenzione, qui immagino l'ipotesi in cui c'è un'impossibilità della prestazione per colpa del debitore, il che significa che l'obbligazione diventa semplice. Quindi il debitore in realtà viene liberato dall'obbligazione qualora non preferisca eseguire comunque l'altra prestazione è chiedere risarcimento. Se invece c'è l'impossibilità per colpa del creditore e al creditore competeva la scelta, è evidente che il debitore è liberato dall'obbligazione. Qualora il creditore non preferisca eseguire l'altra prestazione e risarcire il danno che eventualmente abbia cagionato al debitore dal quale pretende una determinata prestazione. Quindi, come vedete, il quadro della disciplina è un quadro complesso. Si muove dalla regola semplice e base, che è quella delle impossibilità di una prestazione per causa non imputabile, che determina una semplificazione della obbligazione, ha le ipotesi in cui la impossibilità può essere per colpa del debitore o del creditore e in ogni caso bisogna verificare se alla parte che si rende colpevole competesse la scelta della esecuzione. Che succede nel caso invece in cui abbiamo la impossibilità di entrambe le prestazioni? Se entrambe le prestazioni sono impossibili, se l'impossibilità non è imputabile, è ovvio, vi dicevo, che l'obbligazione si estingue. Se invece entrambe le prestazioni diventano impossibili, ma c'è una imputabilità, cioè se almeno una si è divenuta impossibile per colpa del debitore al quale spettava la scelta, la conseguenza è che lui deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per ultima. Perché questo? In realtà entrambe le prestazioni sono divenute impossibili, però non si estingue l'obbligazione perché almeno una delle due è divenuta impossibile per causa imputabile al debitore e quando sappiamo la impossibilità dipende dalla imputabilità del debitore non si ha il fenomeno dell'estinzione. Qui il debitore deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per ultima. Se invece almeno una sia divenuta impossibile per colpa del debitore, ma la scelta sarebbe spettata al creditore, il creditore può domandare a sua scelta l'equivalente dell'una o dell'altra. Quindi vedete la disciplina non è diversa, perché in questo caso che cosa succede? Succede che una delle due prestazioni diventa impossibile per causa non imputabile, mentre l'altra prestazione diventa impossibile per causa imputabile al debitore. La circostanza che il debitore sia la causa della impossibilità esclude che si possa avere una estinzione dell'obbligazione, quindi il debitore rimane vincolato. Ovviamente rimane vincolato, ma quale prestazione segue? Non può eseguire nessuna delle due prestazioni, perché di fatto entrambe sono diventate impossibili, quindi l'unica cosa che può fare è pagare l'equivalente della prestazione. E quindi qui si pone la domanda qual'equivalente paga? E qua la differenza la fa se la scelta competeva al debitore o al creditore. Se la scelta competeva al debitore, allora il debitore paga l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per ultima. Se invece la scelta aspettava il creditore, è il creditore che sceglierà se domandare l'equivalente dell'una o dell'altra prestazione. Rispetto alla disciplina delle obbligazioni alternative, dobbiamo distinguere la disciplina delle obbligazioni facoltative. Qual è la differenza? La differenza è che nell'obbligazione facoltativa, oggetto del rapporto obbligatorio, è soltanto una prestazione. Tuttavia il debitore ha la facoltà di liberarsi eseguendo una diversa prestazione. La differenza tra l'obbligazione alternativa e l'obbligazione facoltativa è abbastanza semplice. Mentre nell'obbligazione alternativa l'oggetto dell'obbligazione sono entrambe, anche se poste in modo alternative, nella obbligazione facoltativa l'oggetto del rapporto obbligatorio è soltanto uno. Quindi la possibilità che il debitore ha di liberarsi eseguendo una diversa prestazione è soltanto una facoltà attribuita al debitore, ma quella prestazione non costituisce oggetto del rapporto obbligatorio. Come è bene facile intuire, la differenza tra l'obbligazione alternativa e l'obbligazione facoltativa si apprezza prevalentemente in termini di impossibilità, perché di fatto l'obbligazione facoltativa rimane una sorta di obbligazione semplice, cioè un'obbligazione in cui è dedotta un solo oggetto e quindi è solo in funzione di quell'oggetto che la disciplina si deve costruire. Se diventa impossibile quell'oggetto, per caso non impotabile, l'obbligazione si estingue. In cambio, se diventa impossibile la cosiddetta obbligazione facoltativa, l'obbligazione non si estingue, ma rimane esattamente uguale. Quindi come si libera il debitore? Il debitore si libera eseguendo la prestazione dedotta o facoltativamente a sua scelta l'altra. Quindi la facoltà di scelta aspetta generalmente al debitore che può liberarsi eseguendo una prestazione diversa. Se io ho la impossibilità della prestazione dedotta per causa non imputabile o imputabile al creditore, l'obbligazione si estingue. Quindi, a differenza della disciplina delle obbligazioni alternative, in cui si sarebbe avuta una semplificazione dell'obbligazione, qui l'obbligazione si estingue, perché siccome l'oggetto è uno, venuto meno quell'oggetto viene meno l'obbligazione. L'altra prestazione non costituisce oggetto del rapporto obbligatorio, costituisce soltanto una facoltà attribuita al debitore. Ovviamente, se l'impossibilità della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio avvenga per colpa del debitore, il debitore non è liberato e il creditore può scegliere o che il debitore esegua l'altra prestazione, che era quella facoltativa, oppure il risarcimento del danno. Qui ovviamente può chiedere risarcimento del danno per la semplice ragione che la scelta, che la impossibilità dipende da colpa del debitore. Quindi, dipendendo da colpa del debitore, il legislatore controbilancia la colpa del debitore attribuendo al creditore la facoltà di compiere questa scelta. Detto questo dobbiamo parlare delle obbligazioni divisibili e le obbligazioni indivisibili. Ora, quali sono intanto le obbligazioni indivisibili? In realtà, quali siano le obbligazioni indivisibili lo avevamo visto in una lezione generale parlando dell'oggetto dell'obbligazione. E abbiamo visto che sono indivisibili quelle obbligazioni che hanno... la cui prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto, che è indivisibile per natura o indivisibile per volontà delle parti. Quindi, per valutare l'indivisibilità, io non devo tenere conto dell'oggetto della prestazione. Non devo tenere conto del dare, del fare o del non fare, ma della cosa, oggetto del dare o del fatto, oggetto del fare o del non fare. Ci sono due tipi di indivisibilità. Una divisibilità per natura, se io ho l'obbligazione di consegnare un cavallo vivo. Se io ho l'obbligazione di consegnare un cavallo vivo, è evidente che qui siamo in presenza di un'obbligazione indivisibile per natura. È ovvio che se io ho l'obbligazione di consegnare un cavallo non vivo ma anche morto, l'obbligazione potrebbe essere divisibile. Quindi è la vitalità del cavallo che mi rende indivisibile la prestazione per natura. Ma ci sono dei casi in cui la indivisibilità non è un'indivisibilità che dipende dalla natura della cosa o del fatto oggetto della prestazione, ma dipende dalla volontà delle parti, perché sono le parti che nel costruire il rapporto obbligatorio hanno espressamente costruito quel rapporto obbligatorio come se si trattasse di una indivisibilità. Quali sono le regole che governano le obbligazioni indivisibili? Qui c'è una regola molto semplice. Alle obbligazioni indivisibili si applicano le norme in materia di obbligazioni solidali, ovviamente in quanto siano applicabili, salvo ciò che concerne le regole seguenti. Quindi queste regole che adesso andremo a vedere sono delle regole specifiche per le obbligazioni indivisibili, per il resto si applicano le norme sulle obbligazioni solidali, ovviamente in quanto risultino applicabili. Allora, la prima regola, l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi, quindi se c'è un soggetto che era titolare attivo o passivo di un'obbligazione indivisibile, la indivisibilità riguarderà anche l'obbligazione dell'erede che subentra nella posizione del debitoro o del creditore del rapporto obbligatorio avendo ad oggetto un'obbligazione indivisibile. L'erede del creditore che agisce per soddisfare l'intero credito deve dare cauzione a garanzia degli eredi. Quindi se io mi trovo di fronte a un'obbligazione indivisibile è evidente che in quanto indivisibile non può essere eseguita che da una persona. Quindi se c'è erede del creditore che agisce per soddisfare il proprio credito e quindi per che a lui venga pagato, ovviamente può essere pagato solo a lui e non a tutti gli eredi insieme e quindi lui deve dare garanzia agli altri eredi di modo che quello che lui consegue poi potrà andare a profitto anche degli altri eredi e se non va a profitto degli altri eredi questi eredi hanno un'adeguata garanzia. Infine se uno dei creditori di prestazione indivisibile, quindi io mi trovo di fronte a un rapporto obbligatorio in forza del quale io ho Fulano e Mengano che sono creditori di una prestazione indivisibile dovuta da Sutano. Quindi Sutano debitore deve eseguire una prestazione, per esempio la consegna di un cavaglio vivo e i creditori sono Fulano e Mengano. È ovvio che in questo caso la prestazione può essere eseguita o a Fulano o a Mengano. Che succede se uno dei creditori, quindi o Fulano o Mengano, compie uno di questi fatti. Fa una remissione a favore di Zutano, oppure fa un adatio insolutum, oppure stipula una transazione, oppure stipula una innovazione, oppure stipula una compensazione, oppure si crea un fenomeno di confusione. Allora, quello che succede è che il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Non solo il debitore non è liberato verso gli altri creditori, ma i creditori possono domandare la prestazione indivisibile, addebitandosi o riborsando la parte del creditore. Faccio un esempio, faccio l'esempio di remissione. Quindi immaginiamo che Fulano rimetta a Zutano il debito. Di conseguenza Zutano, nei confronti di Fulano, è liberato dall'obbligazione di consegnare il cavaglio vivo. A questo punto la domanda è, ma Zutano è liberato anche nei confronti di Mengano? No, Zutano non sarà liberato nei confronti di Mengano. E la domanda è, Zutano dovrà consegnare a Mengano il cavaglio vivo, certamente dovrà consegnare il cavallo vivo, non potrà consegnare qualcosa di diverso. E allora che cosa succede? Significa che Mengano può dire a Zutano, tu comunque il cavallo vivo me lo devi consegnare. Però, considerando che Fulano, che era il mio concreditore, ti ha rimesso il debito, significa che la tua obbligazione non ha più il valore, diciamo, dell'intero cavallo, ma della metà del cavallo. Siccome non mi puoi consegnare metà del cavaglio, tu mi consegni metà del cavallo e io ti restituisco la metà del suo valore, che corrisponderebbe alla metà del valore della remissione effettuata da parte di Zutano. Quindi questo esempio dovrebbe cercare di chiarire che cosa succede. Quando uno dei creditori di prestazione indivisibile compie una remissione, una datia insolutum, una transazione, una nuova azione, una compensazione o una confusione. Il debitore non è liberato verso gli altri creditori, cioè a dire che gli altri creditori possono chiedere al debitore l'obbligazione. E poiché si tratta di un'obbligazione indivisibile, è evidente che gli chiederanno l'obbligazione esattamente in quelle stesse condizioni. Però siccome questo fatto non è irrilevante, i creditori quando domandano la prestazione indivisibile devono addebitarsi oppure rimborsare al debitore la parte del creditore che ha fatto la remissione, la datia insolutum, la transazione, la compensazione, la nuovazione o rispetto al quale si è verificata la confusione. E in questo modo, come dire, si compensa la disciplina. Per quanto riguarda le obbligazioni divisibili, se non è solidale e ci sono più debitori, ciascun creditore può chiedere solo la sua parte. Quindi se stiamo in presenza di un'obbligazione divisibile, se non è solidale e ci sono più debitori, è evidente che ciascun creditore può chiedere al debitore solo la sua parte. Se non è solidale e ci sono più creditori, ciascun debitore è tenuto a pagare solo la sua parte. E nel caso di beneficio della divisione non opera per l'erede del debitore incaricato di eseguire il pagamento e per l'erede del debitore che è in possesso della cosa certa. Quindi in presenza di un'obbligazione divisibile, è ovvio che se non c'è la solidarietà e ci sono più debitori, ciascun creditore può chiedere al debitore solo di pagare la sua parte e non anche quella degli altri. Se invece non è solidale e ci sono più creditori, ciascun debitore è tenuto a pagare a ciascun creditore solo la sua parte. Il beneficio della divisione però non opera a favore dell'erede del debitore incaricato di eseguire il pagamento e a favore dell'erede del debitore che è in possesso della cosa certa e che deve ovviamente consegnare la cosa.